In tanti non hanno voluto mancare all'appuntamento con le nuove BMW Serie 4 Cabrio e Serie 2 Coupé alla concessionaria di Motor di Perugia. In concomitanza con il lancio nazionale, anche lo showroom di Sant'Andrea delle Fratte ha per un intero weekend lasciato aperte le proprie porte, dando la possibilità a tutti i clienti e agli appassionati di auto sportive di ammirare le nuove arrivate del marchio tedesco. BMW continua con i numeri pari che indicano il massimo della sportività del marchio bavarese, la Serie 2 è un coupé puro che fa veramente provare la sensazione di una vera sportiva, la Serie 4 Cabrio invece segue la Serie 4 Coupé, quindi mantiene tutte le caratteristiche del coupé con una capote rigida ma farà vivere a chi avrà il piacere di acquistarla tutta la sportività di una capote aperta. E tra gli intervenuti non poteva mancare il presidente dell'automobile club dell'Umbria, Ruggero Campi, grande appassionato e conoscitore di auto sportive. La Serie 2 e la Serie 4 Cabrio completano un po' questa grande aggressività del marchio BMW. La Serie 2 è una macchina veramente piacevole, bella da guardare e straordinaria da guidare, corta, reattiva, con delle motorizzazioni sia diesel che benzina che veramente ti stimolano ad una guida sportiva sia pur molto economica. La Serie 4 Cabrio è una macchina che ti fa pensare alla libertà, alla piacevolezza di guida con una eleganza che pochi cabrio sanno avere. Il Porta Aperto organizzato da D-Motor è stata la prima iniziativa di un anno che lascia intravedere grande attivismo da parte della concessionaria perugina che già giovedì 6 marzo presenterà la nuova Mini 2014 al Velvet Fashion Caffè di Perugia a partire dalle 21. È un inizio appunto come è stato sostenuto prima per un anno importantissimo in cui a D-Motor si augura di poter accogliere e stupire nuovamente tutta la clientela perugina con effetti speciali. In particolar modo proprio in questa settimana avremo una nuova sorpresa, cioè la presentazione dopo 14 anni della nuova Mini, quindi una grande festa con cui tutti i clienti Mini sono invitati per scoprire ancora una volta un'eccellenza di prodotto unita a un divertimento. Grazie. 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 Grazie.